ha perso il controllo della vettura che ha impattato contro ad una cancellata e poi contro un moretto di cinta è accaduto questa sera mercoledì 6 marzo poco prima del 19 in via valle sacra angolo strada del caudano a quarnier a un 64 anni di quarnier a bordo della sua fiat punto sul posto sono intervenuti i vicini del fuoco di ivrea e l'ambulanza della croce rossa di castellamonte arrivarono a canavese l'uomo ha riportato solo qualche contusione ed è stato trasportato all'ospedale di quarnier un po' di quarnier